L'amministrazione comunale di Fano tende la mano in aiuto a tutte le attività che hanno avuto un calo di fatturato maggiore dell'80% nel 2020 rispetto al 2019 a causa della pandemia. Si aprirà domani, venerdì 8 gennaio, il bando che prevede la destinazione di un bonus di 1000 euro, pensato come supporto alle aziende in difficoltà e che rimarrà aperto fino al 31 gennaio. Riteniamo che questo sia un bel segnale da parte della nostra amministrazione perché questo supporto verrà dato con i fondi nostri, con i fondi del Comune di Fano, non essendo al nostro Comune arrivando aiuti specifici da parte del Governo, da parte della Regione Marche. Questa manovra si inserisce nel solco di una strada già intrapresa dalla Comune di Fano nel 2020 come uno dei tanti aiuti economici che si rifanno proprio al nostro bilancio, alle nostre risorse di bilancio sia per le attività produttive che alle famiglie. In questo caso specifico andiamo a istituire un fondo nel bilancio 2021 per quelle attività produttive che non sono state raggiunte da nessun tipo di aiuto né nostro, né regionale, né nazionale e che sono rimaste un po' diciamo indietro e che hanno diritto anche loro di essere aiutate. Quindi possiamo dire che questa è un'anticipazione delle scelte del bilancio di previsione del 2021 che stiamo andando a definire e che chiuderemo nei prossimi giorni. Per partecipare ovviamente basterà inviare una PEC al Comune di Fano con l'evidenza di tutte le caratteristiche richieste dal bando.